Vedete ragazzi, siamo a Sessione con Cadora. Andiamo verso Ionio. Andiamo verso Ionio. Andiamo verso Ionio. Ammirate ragazzi, avete visto che bella Sessione con Cadora. È tutto vuoto, non c'è mai nessuno qui tra quei turisti. Comunque andiamo per il metodo P1, verso Ionio, la nostra fermata è Capolina. Ecco i cari mobili con gli ascensori. Andiamo verso Ionio. 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 5 minuti e Ionio, 12 minuti e Ionio. Vedete ragazzi? Vedete ragazzi? Vedete ragazzi? Vedete ragazzi. Vedete ragazzi? Siamo in attesa, perché è quella vecchia e quella nuova. Il treno per la mattina in arrivo tra tre minuti, cinque minuti e undici minuti Ione. Anche in una direzione Ione. Ione in arrivo tra tre minuti, però c'è 10 minuti Ione. Ione in arrivo tra tre minuti, il prossimo è nove minuti. Ione in arrivo tra tre minuti, Ione in arrivo tra tre minuti Ione. Ione in arrivo. Ecco qui da nuovo. Eccolo. 0-2-6-1. Andiamo avanti. Eccolo. 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 Ok. Eccolo. Questa è quella vecchia, vedete, la c'è quella vecchia. Questa è la città, vedete, la città è la città. Questa è la città, vedete, la città è la città. Questa è la città, vedete, la città è la città, vedete, la città è la città. Questa è la città.